Ciao ragazzi, perché ho un video in bagno? Non perché vi debba far vedere qualche make-up o qualche cosa ma semplicemente perché dato che devo farmi i capelli col babyliss e tipo ve l'ho fatto vedere questo video una volta soltanto e comunque nel mentre voglio anche parlarvi di qualcosa ho detto a questo punto faccio due cose contemporaneamente e vi faccio praticamente i video mentre mi avviccio i capelli mentre comunque vi parlo di quello che vi vorrei parlare in questo video una location un po' strana è vero allora di tutto mi tolgo questi cosi perché ieri sono andata a tagliare i capelli infatti se vedete l'ultimo video li vedete più corti oltre che tutti uguali perché io preferisco avere tutti uguali ma che sono più facili da pettinare insomma e cosa fatta completamente a caso ma veramente a caso perché parlando con mia cugina sto facendo parlando di altre cose ripeto a caso quindi non c'entrava proprio niente questa cosa a un certo punto esco e faccio ma quasi quasi o mai vengo a fare un piercing così proprio dal nulla e ieri quando sono tornata al parocchiere mi sono andata a fare l'elix che sta qui non lo vedete? vabbè sarebbe il puntino che sta là ovviamente ora deve si deve insomma sanificare io lo sto disinfettando ieri ho fatto un impacchi col ghiaccio che comunque mi hanno permesso di non farlo gonfiare non so se questa sia la giusta procedura però io mi sono sempre comportata così quando ho fatto anche gli altri buchi all'orecchia allora di che cosa voglio parlarvi in questo video? scusate se ogni tanto guardo però devo un po' vedere cosa sto combinando devo stare attenta perché non mi devo fare male soprattutto perché il piercing è stato fatto ieri e mi fa ancora male di cosa voglio parlarvi in questo video? in questo video voglio parlarvi delle confidenze o meglio di come le persone tendono a confidarsi costantemente con persone sbagliate mi sono resa conto che io spesso e volentieri mi confido con persone sbagliate o meglio parlo con persone che alla fine di quello che io vivo di quello che io passo in quel momento non se ne frega da manca di niente e io puntualmente ci rimango male brava Giulia hai scoperto l'acqua calda non c'è neanche una bolletta qua brava Giulia ma sempre molto furba e puntualmente ripeto non fregando se non accade niente io rimango puntualmente a parlare con gente che appunto non se ne frega niente e invece dai miei consigli tende sostanzialmente a buttarmi a terra ed è una cosa che io non ho mai sopportato ora come si può ovviare a questo problema? allora innanzitutto bisogna capire bene il tipo di confidenza che si va a fare e selezionare bene la cerchia delle persone con cui noi andiamo a confidarci mi spiego se noi dobbiamo confidare una questione di lavoro ad esempio magari è più indicato parlarne con uno dello stesso settore nostro e quindi farci avere una sorta di confronto con questa persona stessa cosa si tratta di un ambiente universitario stessa cosa si tratta ad esempio di un ambiente sentimentale di amicizia eccetera eccetera perché? perché quando ad esempio andiamo a parlare di una questione universitaria e ci confrontiamo con persone che non frequentano l'università o comunque non l'hanno frequentata per loro scelta per loro ragioni in generale ci rendiamo conto che non ci daranno mai il consiglio che noi chiediamo ma non vogliamo sentirci dire dopo chiediamo poi l'errore più grande è parlare alle volte con persone che ci danno a prescindere ragione allora non è così che funziona perché il consiglio la confidenza o comunque qualsiasi cosa va fatta con criterio non a prescindere siccome quello è amico mio mi dice per forza che io mi sto comportando bene non funziona così non è così che si svolgerà la cosa ma soprattutto non è una cosa consigliabile perché sentirci dire semplicemente si si stai facendo bene non ci aiuta anzi al più ci fa sbagliare ancora di più quindi il consiglio che io vi do ecco consiglio è innanzitutto selezionate bene le persone con cui andate a parlare di una determinata situazione ma soprattutto chiedete alle persone sincerità anche se questa sincerità magari può farvi male darvi fastidio eccetera eccetera postilla c'è modo e modo di dire una cosa c'è modo e modo di essere contrari alla vostra opinione c'è modo e modo di dirvi che magari una cosa non la state facendo bene o la state facendo bene c'è modo e modo di farvi capire che magari quella cosa va fatta in un altro modo oppure non va fatta proprio non bisogna essere sempre questo lo dico in particolare a determinate persone non bisogna essere sempre brutali soprattutto aggressivi verso la persona dicendo no lo stai sbagliando ma che stai facendo ma sei pazzo ma no non funziona così è sbagliato non porta a niente anzi porta la persona che vi ha chiesto un consiglio comunque che vi ha chiesto un parere a stare ancora peggio e dato che se si è confidata con voi significa che un minimo di rispetto per voi c'era amici parenti dovete evitare io gli dico le cose come stanno in maniera brutale così la persona la capisce meglio niente di più sbagliato le persone capiscono comunque anche se le cose vanno dette con toni più moderati con toni più tranquilli ma soprattutto le persone capiscono anche di più perché se noi aggrediamo chi abbiamo di fronte semplicemente dicendo tu stai sbagliando non devi fare così non devi fare così otteniamo l'effetto contrario otteniamo che quella persona si chiude ancora di più si allontana da noi e magari sbaglia anche il doppio quando invece si è chiesto consiglio era per non sbagliare poi qua faccio una piccola specifica quando ci sono dei problemi di relazione di coppia è normale perché lo fanno tutti io l'ho fatto anche chiedere consiglio agli amici dell'ex o della ex non fatelo perché non fatelo perché è ovvio è logico ed è scontato come d'acqua che purtroppo le persone amiche dei vostri ex comunque migliori amiche comunque insomma in generale non saranno mai dalla vostra parte ma proprio mai quindi se vogliate confidare qualcosa anche se gli dite ti prego non lo dire ti prego non ti confidare ti prego fa che questa cosa non lo faranno non lo faranno ho provato sono mia belle tante tante volte Giulia non imparerai mai quindi vi consiglio vivamente di evitare la cerchia di persone che gli girano intorno in maniera molto stretta perché ottenete l'effetto contrario stessa cosa se magari trovate quella persona che vi aiuta e veramente lo fa evitate di parlare con persone che vi ripetano in continuazione le stesse cose come un discorotto tipo il non hai capito che tanto vi siete lasciati che ormai non tornerebbe insieme allora noi non siamo stupidi le cose le capiamo vogliamo evitare queste ripetizioni perché le cose comunque ci rimangono impresse e il sentirsi dire in continuazione questa persona non torna oppure questa persona con te non può rassare mai più oppure un'altra qualsiasi cosa tipo no per adesso non ci parlare una qualsiasi cosa va detta una volta due volte ma non 354 miliardi di volte perché non è che se lo ripetete in continuazione quello che prova la persona in quel momento quello che pensa la persona in quel momento cambia siccome voi li state ripetendo 850 miliardi di volte non ci devi parlare con te non ci torna oppure adesso è un periodo in cui sta particolarmente nervoso nervoso non ci devi parlare perché non è così io non so in che lingua spiegare questa cosa perché puntualmente la gente si pensa che di fronte abbia degli imbecilli che se non gli ripetete in continuazione questa frase proprio del vedete che la situazione è questa la situazione non cambia questa persona così di punto in bianco cambia idea e voi vi pensate nella vostra mente contorta e malata perché quello è che non lo so nella testa della persona questo concetto non venga recepito no le persone non sono stupide non sono imbecilli ed è un concetto che deve essere interiorizzato deve essere un concetto che deve essere carpito con i tempi delle persone non è che siccome voi dite le cose stanno così 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 ah di fronte avete tac la bacchetta magica e puntualmente la gente ha cambiato idea visto come in tantissime altre situazioni dove come vi ho detto prima io sconsiglio vivamente il parlare con gli amici o comunque con parenti stretti perché come è successo a me nella prima relazione mi sono trovata praticamente con le minacce e da tra poco finivamo in tribunale quindi evitiamo proprio questa procedura perché è sbagliata non vi porta a niente ma soprattutto vi distrugge la salute semplicemente evitando di confidarvi con parenti del fidanzato o della fidanzata di confidarvi con amici troppo stretti che comunque dalla vostra parte non staranno mai e se staranno dalla vostra parte vi affonderanno ancora di più cioè magari sì sono dalla vostra parte vi vogliono anche bene parte ok però però cosa succede che vi staranno a ripetere o a dire in continuazione e ma con quella persona non ci devi stare e ma vi dovete lasciare quindi metteranno una sorta di pulce nell'orecchio che è sbagliatissima quanto riguarda il discorso accademico come vi stavo appunto accennando all'inizio cosa succede che se voi parlate con una persona che comunque non ha intrapreso il percorso universitario o che comunque non è in grado di capire cosa si fa all'università o comunque di entrare proprio in quel meccanismo accademico che è diverso da quello scolastico vi starà sempre a ripetere una cosa cioè quello è il tuo dovere il voto che hai preso è il minimo che dovevi fare è il minimo sindacale non è necessario che comunque ti accontenti di questi voti bassi perché comunque tu studi e basta non fai niente alla mattina e alla sera questi non sono consigli questi non sono consigli questo è un buttarti a terra questo non è un consiglio costruttivo questo non ti porta a niente sentirsi dire in continuazione no no questa cosa la stai facendo così ma in realtà non ti spetta niente non ti meravigliare cioè io non so molte volte che cosa pretendete dalla gente che vi dite i consigli se vi ho chiesto un consiglio non era un mi devi buttare a terra altrimenti io non vivo più non è un ti ho chiesto un consiglio mi devi dare un parere purché sia negativo mi debba far stare male è un po' contorta questa cosa e soprattutto la cosa più contorta del mondo che io non capirò mai dall'altro della mia ignoranza è il ma io ti dico così così tu sia a forza così tu capisci bene la vita com'è perché è dura ed è difficile allora momento momento di che stiamo parlando cioè perché arrivate a creare questa concezione assurda della mente delle persone semplicemente dicendo no ma la vita è difficile quindi io preferisco essere così brutale e dirti le cose come stanno così tu ti corazzi e capisci che cosa mi devo corazzare ma che siamo non lo so ma stiamo andando tutti in guerra ogni giorno nella nostra vita ciao la capite vivete le cose con più semplicità con più spensiera con più tranquillità e ve lo dico io eh che come dicono tutti io sembro la persona più isterica e frettolosa del mondo più non tranquilla del mondo come ha detto oggi un'amica mia io forse sono la persona più tranquilla del papilla del mondo anche se a tutti anche se alla razza umana quindi a tutti gli altri do sempre dimostrazione che sono una pazza isterica quando invece non lo sono io mantengo una tranquillità interna che voi non la vedrete mai perché sono io che non ve la faccio vedere perché non ve la voglio far vedere se io vi facessi vedere la mia vera tranquillità interiore poi mi sentirei dire in continuazione come sta succedendo anche in questi giorni Matteo non te ne frega niente ma tu sei troppo tranquilla si vede che di queste cose che stai facendo non ti interessa tanto come la faccio faccio la sbaglio quindi io so di essere una persona tranquilla mi tengo la mia tranquillità per me ma soprattutto mi rendo conto che quello che faccio io è quello che penso io non è condivisibile con la maggior parte delle persone quindi seleziono la gente con cui voglio parlare seleziono la gente con cui mi voglio confidare e prendo quei consigli come esempio da seguire o da non seguire ma non come carta della Bibbia come non lo so il Vangelo che è per forza quello e la legge no i consigli sono tali perché se volete li seguire non perché dovete essere obbligati a seguire quello che vi dice un amico o quello che vi dice un'amica cioè no perché altrimenti ottenete l'effetto contrario e ora notare come il semplice confidarsi con una persona se uno lo analizza bene diventa anche questo quasi un compito che una persona deve seguire in maniera attenta perché il confidarsi con tutti a parte che porta ha un vociare assurdo di gente che parla quindi se vi confidate con delle persone siete attenti queste persone non siano delle chiacchierone come le ghiandaglie chiacchierone di Hunger Games ma soprattutto che sappiano veramente che voi ci tenete a loro e quindi se vi state confidando con loro c'è un diavolo di motivo e altra cosa selezionate la gente con cui andate a parlare selezionate la gente con cui andate a parlare e quando la selezionate aggiornatela cioè ditegli le cose volta per volta e soprattutto siate voi i primi a dire le cose non aspettate che le cose si vengano a sapare da altra gente perché come sapete il gioco del telefono non funziona bene c'è sempre qualche interferenza di campo e se uno ha la prima parola detto biscotto poi all'ultima parola arriva Francesco che non si sa neanche come si sia arrivato da biscotto a Francesco cioè non sapete la storia in mezzo e quindi evitate di creare queste situazioni perché non sono molto positive per tornare in conclusione perché altrimenti questo video dura due anni tre mesi e cinque giorni per tornare alla conclusione del gestire le confidenze con le relazioni in base appunto all'amico al parente allo zio al fidanzato del boh avete capito no? cercate sempre di calibrare quello che state andando a dire ma soprattutto pensateci è necessario che questa persona sappia questa informazione? è necessario che questa persona venga a sapere questa cosa? è necessario che io mi confidi con questa persona per sapere questa cosa? non tutto necessita di un confronto non tutto necessita di essere raccontato come non tutto necessita di essere sempre spiegato agli altri perché gli altri non capiscono di ogni cosa daranno sempre la loro magra interpretazione e di ogni cosa purtroppo sapranno e saranno sempre loro a decidere poi come dirla come interpretarla perché se voi gli chiedete senti che per piacere magari parli con lui o lei chiedigli ma cosa ne pensa ma cosa allora o imparate queste cose vanno fatte di persona e non vanno fatte né per messaggi né via vocali né via cose strane o iniziate a chiamare le persone al telefono e gli rompete le scatole e dite raga ma la cosa è successa così come mai è finito questo, questo e quest'altro cercate sempre la spiegazione di ogni cosa io forse sono esagerata perché chiedo il perché di ogni singola cosa però ogni volta funziona perché lo sviscerare alla natura ogni problema veramente ti fa trovare la causa di quel problema e ti fa capire anche che con determinate persone non ci dovete parlare che con determinate persone non vi dovete confidare perché ottenete l'effetto contrario e dopo questo video durato una vita io ancora devo finire di farmi i capelli noi ci vediamo sicuramente la settimana prossima con un nuovo video e ragazzi se il video vi è piaciuto se vi è interessato se avete qualche altro consiglio inerente al tema comunque delle confidenze o comunque in generale la prossima video la settimana prossima intanto finisco di farmi che mi ha rimasto una giocca e noi ci vediamo ciao ciao